Una volta, tanto tempo fa, in tante vite, conobbi un ragazzo che inseguiva i sogni, camminava tra le stelle, ed era lui stesso una stella, ed era così bello che decisi di prendere appunti per aiutare lui e aiutare me. E questo fu quello che feci. Ti porterò per mano lungo questo viaggio audace e delicato, rischioso e sicuro insieme, ricco di scoperte e di realizzazioni. È il viaggio del ragazzo che inseguiva i sogni, il mio viaggio. Il tuo viaggio. Il ragazzo che inseguiva i sogni è uno, ed è tutti noi che inseguiamo le stelle a occhio nudo, ai piedi scalzi, inciampando e correndo al ritmo del nostro cuore. Non so se esiste la categoria narrativa-terapeutica scritta in seconda persona. Se esiste, questi racconti di formazione ne fanno pienamente parte. grazie a tutti. Grazie a tutti